C'è un momento piuttosto delicato della politica, sicuramente concentrata su tutta una serie di altri problemi. Ci sono però in attesa di soluzione quelli che sono i passi finali del rapporto tra Italia e San Marino. Assolutamente da portare avanti con grande determinazione. È stato detto anche dal nostro Premier Enrico Letta al meeting nelle scorse settimane, il rapporto con San Marino è strategico, è strategico per Rimini, è strategico per il territorio regionale e per l'intero Paese. Noi dobbiamo fare in modo che venga consolidato con i prossimi passaggi. L'uscita dalla blacklist è il primo punto fondamentale per il territorio di San Marino, perché diventa un valore aggiunto anche per Rimini. Il patrimonio di San Marino è una ricchezza, noi adesso stiamo rilanciando l'aeroporto riminese e abbiamo bisogno di poter contare anche su quello che offre San Marino per Rimini, quindi per l'economia e per riuscire anche a costruire delle nuove relazioni economiche, sociali e culturali. Abbiamo investito molto in questi mesi di questa legislatura che veniva ricordata, è sicuramente una legislatura che si inserisce in un momento storico e sociale molto complicato e delicato, ma noi dobbiamo essere determinati nel far sì che l'obiettivo di riuscire a far uscire San Marino dalla blacklist sia un obiettivo che raggiungiamo in tempi rapidi.